Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il tuo compagno ha preso una bella botta. Il tuo compagno ha preso una bella botta. Il tuo compagno ha preso una bella botta. Primo giro, sei al terzo posto. Il tuo compagno ha preso una bella botta. Ok, tempo ultimo giro, 1, 1, 0,2. Il tuo compagno ha preso una bella botta. Il tuo compagno ha preso una bella botta. Il tuo compagno ha preso una bella botta. Due scuderie si contendono la vittoria. Prendete dei popcorn e diamo via la battaglia. Beh, non aspettiamo oltre. Prepariamoci perché a breve si parte. Il tuo compagno ha preso una bella botta. Il tuo compagno ha preso una bella botta. Ma che mezza è un problema. Il tuo compagno ha preso una bella botta. Il tuo compagno ha perso posizioni dopo l'incidente. Hai un buon ritmo, via al secondo giro. Hai un buon ritmo, via al secondo giro. Ok, via al secondo giro. Ok, il tempo dell'ultimo giro è stato di 1,3, 0,4. Ok, via al secondo giro. Ok, via al secondo giro. Allora, il tempo nell'ultimo giro è stato di 1,3, 0,3. Il tuo compagno ha fatto un incidente. Ok, via al secondo giro. Ok, via al secondo giro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.